Buongiorno ragazzi, tapposti, benvenuti in questo nuovo video E' appena finita la partita tra Napoli e Parma, conclusa 3-0 per i Napoli Che devo dire, sono ultra mega contento, super non mega ultra felicio Di questa vittoria Che conferma quanto di buono sta facendo il Napoli e Ancelottiano in questa stagione La vittoria era abbastanza scontata Scontata forse è un parolone, però Diciamo ha rispettato in pieno il pronostico Perché vedeva i Napoli nettamente Favorito rispetto al Parma per la vittoria Nonostante negli ultimi anni il Parma ha dato tanto, ma tanto fastidio Ha fatto un culo così al Napoli negli ultimi anni Ricordo i gol di Parolo, di Cassano Il 2-2 di tre anni fa Il Daliteguai Mirante Che ha creato tantissimi problemi al Napoli Ma ora secondo me è tutta un'altra storia Perché il Parma Diciamo è una squadra diversa rispetto a tre anni fa Non è più sul loro del fallimento E il Napoli è una squadra nettamente più forte rispetto al Napoli di Benitez Questo è un Napoli molto più da grande squadra Che sembra non avere più quella mente da provinciale che aveva ai tempi di Sarri Che preferiva snobbare le coppe per concentrarsi solo sul campionato Questo Napoli di Ancelotti lo vedo molto più maturo Che anche grandi partite o piccole partite che siano Dà sempre lo stesso atteggiamento Un atteggiamento vincente e da grande squadra E questo è molto importante Perché ti permette di maturare E di vincere anche le partite che sembrano sulla carta più difficili In generale la partita è stata positiva Cioè non è che il Napoli Cioè il Napoli ha giocato una grande partita Il Parma si è visto praticamente poco Si è non fatto qualche ripartenza Ma non ha mai impensierito la retroguarda del Napoli Cioè il Napoli ha letteralmente arato la difesa del Parma Che soprattutto sul secondo gol di Milik è stata praticamente disattenta E non si aspettava quella ripartenza E questi errori in Serie A non si fanno Cioè sono errori gravi perché ti possono costarcare In Napoli è stato fortunato in quella situazione Perché difficilmente sono errori che ti concedi Sono errori che si vedono in Serie A Però è stato molto bravo in Napoli a buttarla dentro in quel frangente Ovviamente il Parma si è chiusa dietro Non è che poteva fare chissà cosa Ed è ripartita in contropide Come fa di solito Ma ci sta Perché se il Parma non si chiedesse in difesa E il Napoli che potrebbe fare? Cioè anzi no Se il Parma non si chiedesse in difesa Prenderebbe altri 6-7 gol Quindi almeno si chiede in difesa Per prendermelo col possibile Ma è evidente che il Napoli ha un potenziale nettamente superiore Diciamo che la maggior parte della regione del Napoli Ha fatto quello che ci si aspetta in ogni partita In particolare Insigne che ha giocato in una partita sontuosa Giocate, assist per Milik Il gol del vantaggio Insigne in questa nuova posizione Sta facendo vedere al meglio le sue qualità Cose che l'ha fatta il 3 Già in posizione di esterno Però l'esterno era troppo vincolato Dal fatto di recuperare palla Di ripartire dai 40 metri Fare tutta la fascia Di servire anche Callecon Invece ora che Insigne gioca molto più vicino alla porta Si concentra a fare solo al tanto gol E sta rappresentato un'arma in più per il Napoli Rappresenta proprio l'idea Diciamo La genialata di Ancelotti Questo esperimento di provare Insigne in quella posizione È stato dando i suoi frutti E sono contento Perché Insigne fino ad ora Il giocatore più in forma del Napoli In questo momento Però a parte Insigne Anche Milik ha giocato un'ottima partita Super partita Più che buona A parte i due gol Ma ha dato una mano ai compagni È stato pericolosissimo E tutto l'altro Milik Rispetto alla gara contro Diciamo nell'ultima partita Contro la Stella Rossa Dove è stato un po' anonimo Con la Frentina Contro la Frentina ha giocato bene Ma contro il Parma ha giocato una super partita Diciamo che quasi tutto il Napoli ha giocato bene Cioè ci sono stati pochi giocatori che hanno giocato male Forse Mertens che si è visto poco Però Anche Verdi C'è Unass Soprattutto Verdi e Mertens hanno giocato bene Unass senza puto Ma il resto del Napoli ha giocato una bella partita Fabio Arruiz pure mi ha stupito Bravo negli inserimenti Nella visione di gioco Però deve migliorare nella finalizzazione Perché quando si trovi in area Non riesce mai a trovare la conclusione Sbaglia quell'appoggio di prima Che gli permette di creare il tiro E deve migliorare sotto questo aspetto Perché quando il Napoli deve provare a segnare Cioè Fabio Arruiz deve sfruttare questa occasione Per buttarla dentro Meno male che ha affrontato Il Parma Che ha concesso un sacco di tiri Perché Non tutte le squadre Ti concede tutte queste occasioni Quindi devi migliorare sotto questo aspetto Però quello che Mi ha stupito Ancora più di Fabio Arruiz È stato sicuramente Malquit All'esordio in campionato Che ha preso il posto di sai Che gioca il titolare contro la Juve Nel big match di sabato Però Fabio Malquit Ha giocato una partita Proprio bella C'è proprio una partita Da Katsimma A Shkunitz Pro A Shkunitz Non tanto però Ha giocato una partita Da home A home Da grande uomo Rentre una partita Della madonna Ha dimostrato Di essere totalmente diverso Dai sai E di saper fare cose Che i sai Si richiedeva Che si chiedeva ai sai Ma che non sapesse fare Quest'ultimo Invece Malquit Le ha dimostrate tutte In questa partita Sovrapposizioni Velocità Cross di prima Scambio Scambio con l'esterno E un giocatore E un terzino Veramente bravo Non un fenomeno Perché dopo una partita Cioè non vuol dire niente Però ha fatto una partita Della madonna E io già Prima che andassi a Napoli L'ho visto qualche volta Offensivamente È molto bravo Deve migliorare un po' Nei cross Perché nelle Sovrapposizioni Dribbling E spinta È bravo Però nei cross Soprattutto Verso al centro Li sbaglia Diciamo Fai cross Troppo larghi Fai cross Troppo sul secondo palo Dove imparare a fare cross Sia sul primo palo Che al centro Perché considera che abbiamo Mico Punta Ci servono Questi cross Però Malquitt Non mi piacciono Molto in termini di cross Per il resto Ha fatto una partita Della madonna Mi ha sorpreso Occhio Isai occhio a Malquitt Perché se dovesse far bene Per altre 3-4 partite Di fila Ti prenderà il posto Quindi stai attento Cerca di non fare stronzate Perché altrimenti Ti prenderà il posto E niente Questo video Finisce qua Un Napoli Della madonna Sta al passo Della Juventus Che vince ancora Vince ancora E sta in testa Ora il big match di sabato Sarà importantissimo Perché Non deciderà lo scudetto Però Sarà una partita Molto importante Per il primo posto Spero che il Napoli Vinca ovviamente Perché dobbiamo sorpassare La Juventus E dobbiamo vincere Stato a nato scudetto Che Sono 3 anni Che da quando Segue il calcio Spero che il Napoli Vinca lo scudetto E spero che quest'anno Sia la volta buono Anzi Perché abbiamo anche la panchina Abbiamo il giocatore Abbiamo l'allenatore E stiamo ruotando bene Gli interpreti E niente Io so che dice qua Ciao